Una organizzata struttura criminale dedita alla commissione delle estorsioni ad imprenditori e commercianti al controllo delle attività economiche attraverso la gestione diretta di attività commerciali e imprenditoriali e al reinvestimento di capitali illeciti, ma non solo. Tra i loro progetti c'era anche l'uccisione di un carabiniere in modo tale da affievolire la pressione delle forze dell'ordine sul clan. Così stamattina i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato otto indagati ritenuti capi ed elementi di spicco del clan Pucca, operante a Sant'Antimo e nei comuni vicini, considerati responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso, omicidio ed estorsione aggravati da finalità mafiose, detenzioni illegali di armi e traffico di stupefacenti. E' stato sventato un piano per uccidere un carabiniere che partecipava alle indagini con l'idea di far cessare la pressione investigativa. Nel corso delle indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, i militari hanno identificato gli autori dell'omicidio di Francesco Verde e del ferimento di Mario Verde, detto otipografo, rispettivamente capo ed esponente di spicco dell'omonimo clan Bersagli di un agguato a Casandrino lo scorso 28 dicembre 2007.